accoglienza mazzeo migranti sono persone non sono carico residuale il presidente del consiglio regionale al convegno del laboratorio sulle disuguaglianze dell'università di siena la toscana non si è mai voltata dall'altra parte abbiamo sempre avuto la capacità di accogliere e integrare sanità via libera dall'aula lo psicologo di base lavorerà in accordo con i medici e i pediatri di base sul territorio l'atto è stato approvato a larghissima maggioranza con la sola astensione di elisa tozzi gruppo misto toscana domani e la non partecipazione al voto di silvia noferi movimento 5 stelle core come il consiglio elegge quattro componenti polemica pd italia viva si tratta di bianca maria giopoli viaggio de presbiteris benedetta valdi e carlotta agostini il presidente del comitato sarà nominato dal presidente della regione di concerto con il presidente del consiglio regionale polemica tra italia viva e pd sulle nomine i migranti non sono un carico residuale è disumano definirli così sono donne e uomini bambine e bambini in cerca di un futuro migliore di una vita migliore così il presidente del consiglio regionale antonio mazzeo al convegno le rotte migratorie nei balcani occidentali il ruolo della caritas nel processo di accoglienza organizzato dal laboratorio sulle disuguaglianze dell'università di siena sentiamo le sue parole e quelle del professor fabio berti docente dell'università di siena che ha introdotto il convegno la toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte una regione che ha sempre avuto la capacità di accogliere ed integrare queste due parole insieme accoglienza e integrazione devono essere al centro della nostra azione politica è evidente che questo convegno è proprio ritornato al centro e anche in questi giorni con i dibattiti con il dibattito politico che stiamo vivendo leggere ascoltare la parola carico residuale con cui vengono descritti donne e uomini che scappano pieni di ansia di paure di preoccupazioni per la loro vita fa male fa male e penso che noi questo dobbiamo dirlo in forza la persona deve essere sempre al centro e compito della politica delle istituzioni deve essere quello di costruire ponti e non di alzare muri. L'Italia non è la sola porta di accesso per i migranti verso l'Europa i migranti passano anche attraverso altri paesi come nel caso delle rotte attraverso i Balcani occidentali questo ci insegna ci hanno insegnato i nostri ospiti che l'Italia non è il solo paese che fa accoglienza la carita salbanese impegnata per accogliere dare supporto e assistenza ai migranti che attraversano appunto quelle rotte è un tema di grande attualità anche in questi giorni in cui è tornato ormai alla ribalta il tema dell'immigrazione dopo 30 anni di trasformazione del nostro paese dopo 40 anni di trasformazione del nostro paese in paese di immigrazione appunto l'immigrazione è sempre comunque al centro del dibattito politico e culturale probabilmente sarebbe anche l'ora di superare questa centralità del tema dell'immigrazione il fatto che ormai anche in altri contesti se ne parli dovrebbe aiutarci appunto ad innovarci nel nostro modo di pensare e di riflettere su questi aspetti. Il servizio sanitario regionale avrà una nuova figura a servizio della salute dei cittadini quella dello psicologo di base la proposta di legge che prevede la sua istituzione ha ricevuto la definitiva approvazione del consiglio regionale a presentare la proposta inizialmente sono stati numerosi consiglieri del pd primo firmatario andrea vannucci ai quali poi si sono aggiunte le firme di molti consiglieri regionali di ogni gruppo anche di opposizione. L'atto è stato votato dall'aula a larghissima maggioranza ma non all'unanimità ha ottenuto 37 voti favorevoli con l'astenzione di elisa tozzi gruppo misto toscana domani mentre silviano feri del movimento 5 stelle non ha partecipato al voto. A illustrare il contenuto della legge e il lungo lavoro svolto prima del suo approdo in aula è stato il presidente della commissione sanità enrico sostegni. Questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e controllo lo fanno il dipartimento di psicologia dell'azienda di salute mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità e quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti ma ci devono essere, avevamo già detto gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Soddisfatti il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il primo firmatario della legge Andrea Vannucci del PD che si è detto un po' emozionato e ha ringraziato anche le opposizioni che fin dall'inizio hanno dimostrato disponibilità a lavorare insieme su questo testo. Oggi è una giornata bella, è una giornata bella per la Toscana, per i toscani, consentitemi di ringraziare il presidente Sostegni e il collega Vannucci perché finalmente oggi passa un messaggio forte e chiaro, il diritto alla salute mentale è fondamentale come il diritto alla salute fisica e deve essere per tutti in ogni luogo della Toscana allo stesso modo. Penso che questo sia davvero un risultato che pone la Toscana all'avanguardia rispetto a tante altre regioni italiane. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni, le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali, ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al benessere generale delle persone e delle comunità perché poi è ovvio che le persone compongono appunto le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti, mettendo i pazienti al centro, è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza. Quindi penso che oggi sia un bel giorno, penso sia un giorno importante per il sistema sociosanitario della nostra regione e per cittadini e cittadini toscani. È ovvio che da oggi comincia un altro tipo di lavoro perché la Giunta deve dare attuazione attraverso il regolamento agli aspetti più meramente organizzativi di quanto previsto dalla norma e l'obiettivo e l'augurio evidentemente che il prima possibile questo sia un servizio nella disponibilità della cittadinanza e dei professionisti. Confermo lo spirito collaborativo che c'è stato dall'inizio. Questa legge è anche un po' nostra, ha detto Andrea Ulmi della Lega. Ci abbiamo creduto, ha aggiunto. La cifra stanziata non è elevata ma è giusta per iniziare perché si tratta di un provvedimento delicato che va studiato in itinere. Sentiamolo insieme a Vittorio Fantozzi che commenta il sì convinto anche di Fratelli d'Italia. Lo psicologo di base sicuramente è una legge importante di cui andiamo fieri. Non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Per tanti fattori, perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base, un supporto psicologico soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni. Non si è convinto quello del gruppo di Fratelli d'Italia? La proposta di legge che istituisce lo psicologo di base. Tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021 che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari. Chiaramente siamo cautamente ottimisti nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento diciamo attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha ribadito che la legge va nella direzione delle richieste già poste dal suo gruppo ma ha voluto porre l'attenzione su una frase che riguarda le donne e la necessità ha un maggior supporto alle donne stesse. Non condividiamo a detto come è stata formulata. L'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata. Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico, hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione, hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore e quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari. Ecco c'è bisogno di tutto questo, passaggi che sono stati condivisi nel corso degli anni in quest'Aula. Quindi la formulazione così come è stata prevista non ci convince, faremo una modifica per restituire alla Regione Toscana un testo che sia più adeguato anche alle sensibilità che in questo momento dobbiamo rivendicare con forza. Si è detto soddisfatto anche Stefano Scaramelli di Italia Viva definendolo un provvedimento lungimirante. Sì, un successo che viene da lontano. L'iniziativa parte da quando avendo approvato il piano sanitario regionale nel 2019 abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale. È un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini. Una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari. Nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti ed entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale. La mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana. Il Consiglio è partito in piena legittimità su altri presupposti. Io ho ritenuto come dire di lasciare che questa proposta fosse abbracciata dalla maggioranza ma di non di fatto condividerne non tanto il contenuto ma soprattutto le premesse da cui si parte quando si regifera in materia. Il Consiglio regionale ha eletto quattro componenti del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Sono stati eletti Bianca Maria Giocoli con 23 voti proposta dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli, Biagio De Presbiteris con 21 voti proposto dal Partito Democratico, Benedetta Baldi con 15 voti proposta dalla Lega e Carlotta Agostini con 13 voti proposta da Forza Italia. Hanno ottenuto voti anche Giacomo Guerrini proposto da Italia Viva e Roberto Passini proposto dal Movimento 5 Stelle. Nessun voto per Piero Paolo Amato proposto dal gruppo misto Toscana Domani. Il quinto componente, il Presidente, viene invece nominato dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Tutti i componenti restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Cristina Giacchi del PD, Francesco Torselli di Fratelli d'Italia e Sara Meini della Lega. Sì, il Consiglio ha eletto i quattro membri del Corecom da una rosa di sei nomi che sono arrivati alla Commissione Quinta secondo le procedure previste dalla legge istitutiva del Corecom. Sono quattro figure con competenze varie, tutte attinenti alle attività del Corecom, avvocati che si sono occupati di vertenze e di controversie relative al tema delle telecomunicazioni e dell'informazione. Ci sono docenti universitari come la professoressa Baldi che hanno una competenza specifica sui temi della comunicazione pur essendo lei una linguista o giornalisti. Quindi siamo soddisfatti, una rosa di nomi che credo potrà bene integrandosi portare avanti le politiche del Corecom nei prossimi anni. Io conosco i due nominati dal centro-destra che sono due donne, Benedetta Baldi e Carlotta Agostini, due professioniste esemplari note in città per motivi differenti. Carlotta ha fatto per tanti anni la giornalista, Benedetta Baldi mi dicono di essere una docente apprezzata nel suo campo. Quindi ovviamente a loro due, due in bocca al lupo, ma in bocca al lupo anche agli altri due eletti. Tra l'altro nelle file del centro-sinistra è stata eletta Bianca Maria Giocoli che qualche anno fa nella sua precedente vita quando era ancora di centro-destra ha fatto pure la consigliera comunale con me. Quindi faccio un in bocca al lupo volentieri. Un giudizio positivo, io mi riferisco principalmente alla figura che noi avevamo presentato, che è quella della professoressa Baldi, una figura che ha delle grandi competenze in materia di comunicazione, di Corecom, di gestione appunto della materia e quindi siamo fieri di poterla, di averla presentata, di averla votata e di trovarla oggi all'interno della compagine del Corecom. Abbiamo avuto modo di vedere anche gli altri curriculum, siamo fiduciosi sperando che il Corecom possa appunto riprendere il volo che merita, anche se negli ultimi anni ha fatto delle modifiche importanti dall'ex presidente, però non è mai troppo. A sottolineare il segnale di insofferenza della maggioranza, Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani, vista la mancata elezione del candidato di Italia Viva, portando a una nuova spaccatura all'interno della maggioranza stessa, tesi espressa con forza anche da Stefano Scaramelli di Italia Viva. Io penso che il terreno delle votazioni del Corecom sia diciamo l'ennesimo segnale di una maggioranza che effettivamente denota molti segnali di insofferenza. Io credo che chi è stato eletto naturalmente sono tutte persone alle quali va personalmente il mio auguro di buon lavoro. In realtà su queste elezioni appunto si misurava la tenuta di un accordo, comunque quello di coalizione, su cui oggi si regge la maggioranza regionale. Evidentemente, visto che Italia Viva presentava un proprio candidato, c'è qualcosa che non ha funzionato nell'ambito degli accordi di maggioranza. Quindi io credo che sia un dovere da parte di chi si è presentato ai cittadini toscani con un programma e con una coalizione, dare delle risposte ed andare uniti fin dove si può. Quando invece comincia, diciamo, la tenuta della maggioranza comincia a scriccholare, io credo che sia doveroso fare una verifica per capire se si può andare avanti insieme. Altrimenti, naturalmente, in questi casi la parola torna ai cittadini toscani. Ma è un fatto molto grave. Per la prima volta nella storia della regione toscana un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia su un settore molto delicato come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno. E questo crea un precedente. Un precedente, riteniamo che il Partito Democratico abbia assunto e svolto con arroganza la presunzione di arrocarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili. E questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il Partito Democratico, più vuole occupare poltrone. A noi non appartiene questo modo di fare politica. Lasciamo al Partito Democratico l'occupazione dei posti di potere, delle poltrone. Non ci interessano, abbiamo fatto una battaglia per questo aspetto. Crediamo che questo sia un fatto molto grave, che vada ricondotto nella responsabilità sia del Presidente Gianni che del Partito Democratico. L'Italia Viva sta nella maggioranza di governo se questa regione vuole proseguire sugli impegni che aveva assunto. In questo momento mi sembra che stiano mancando questi impegni. Il Presidente Gianni e il Partito Democratico stanno decidendo in questa fase di fare un percorso autonomo. Questo ovviamente comporterà delle valutazioni che faremo nelle prossime ore. Lo faremo in maniera molto trasparente nei loro confronti e credo che quindi non possa essere rinviato un confronto nell'ambito del quale si possa valutare o meno il proseguo di questa esperienza di governo congiunta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.